Bruno, l'orso siberiano del parco di Cavriglia, non ce l'ha fatta, è morto all'alba di giovedì mattina. L'esemplare si trovava all'interno dell'area naturale in Val D'Arno da quando era nato 36 anni fa da due orsi provenienti dall'Estonia. I genitori di Bruno erano infatti stati un regalo all'amministrazione di Cavriglia dallo zoo di Tallin nel corso degli anni 70. Bruno stava male da tempo a causa della sua veneranda età e negli ultimi giorni le sue condizioni di salute erano peggiorate. Secondo gli esperti si trattava di uno dei più vecchi maschi della sua specie in cattività che in media vivono tra i 20 e i 25 anni. In passato erano state le condizioni di salute dell'orso ad impedire il suo trasferimento in altre strutture così come invece è avvenuto per altri animali presenti nel parco. L'amministrazione comunale con una delibera urgente ha autorizzato il veterinario Maurizio della Gatta a procedere all'eutanasia qualora le condizioni lo richiedessero per tutelare il bene dello stesso e la dignità dell'orso. Giovedì mattina nello stesso bosco dove era nato in una freddissima mattina di tanti anni fa Bruno è stato soppresso. Dopo la cremazione della salma il comune ha richiesto la restituzione delle ceneri per cospargerle simbolicamente in questi boschi del parco di Gavriglia dove il piccolo era venuta la luce. Oggi nella struttura resta ospite solo Arturo il bisonte che molto presto comunque verrà spostato in un ambiente più idoneo a far sì che possa trascorrere al meglio gli ultimi anni della sua vita.